ciao amici bentornati il mio canale oggi preparo una torta molto buona al cacao e mascarpone è morbidissima e ideale per colazione oppure spuntini vediamo subito come si prepara questa torta e quali sono ingredienti che vengono utilizzati per questa torta iniziamo subito prendo tre uova in una ciotola e aggiungo dentro 200 grammi di zucchero e inizio a sbattere con le fruste elettriche ma si può sbattere anche con la frusta a mano dobbiamo sbattere solo per uno o due minuti circa dopo che abbiamo sbattuto le uova con lo zucchero aggiungiamo dentro mascarpone aggiungo 250 grammi di mascarpone e inizio a amalgamare tutto dobbiamo mescolare soltanto per circa 30 secondi una volta mescolato mascarpone con le uova e zucchero iniziamo aggiungere dentro altre cose aggiungo dentro burro fuso 50 grammi io ho sciolto in microonde per 30 secondi aggiungo 80 ml di latte e inizio a mescolare tutto per circa 30 secondi una volta mescolato tutto questo vediamo gli ingredienti secchi che dobbiamo aggiungere in questo composto come prima cosa prendiamo la farina 150 grammi aggiungiamo dentro 50 grammi di cacao amaro aggiungo lievito per i dolci 16 grammi è una bustina lo mescoliamo questo e poi aggiungiamo nel composto preparato prima setacciando e una volta aggiunto tutto tutti gli ingredienti secchi setacciando iniziamo a mescolare tutto dobbiamo amalgamare molto bene per circa un minuto una volta mescolato tutto questo il nostro composto per la torta è pronto quindi possiamo versare in una teglia che io ho già preparato o imburrato e ho messo carta forno sotto adesso aggiungiamo tutto il composto preparato per la torta adesso devo sbattere in questo modo le bollicine di aria che ci sono dentro escono fuori e la torta si cuoce molto bene per due o tre volte lo sbattiamo così in questo modo la torta si cuoce molto bene vedete dentro che ci sono uscite le bolle di aria che c'erano dentro adesso lo mettiamo in forno dobbiamo cuocere a 180 gradi per 45 minuti dopo 45 minuti ho tirato fuori la torta e adesso rimuoviamo la carta forno che avevamo messo ed ecco in questo modo la nostra torta al cacao e mascarpone è già pronta vedete che è già cotta molto bene abbiamo cotto per 45 minuti a 180 gradi adesso possiamo iniziare a decorare io per decorare io ho preso dello zucchero a velo e un cucchiaio di nutella e granella di cioccolato ai bordi ho messo un cucchiaio di nutella e sopra ho messo granella di cioccolato invece sopra io ho tagliato dei cuoricini di carta li ho messi sopra adesso aggiungo sopra zucchero a velo in questo modo viene un bellissimo disegno in questo modo quando sposteremo carta verranno fuori bellissimi cuoricini invece potete anche cambiare il metodo di decorazione potete scegliere a vostro piacere se non volete sopra i cuoricini potete fare delle stelline oppure quello che piace a voi oppure potete soltanto aggiungere anche semplicemente zucchero a velo in questo modo la nostra torta è già decorata e possiamo anche tagliarla adesso vedete che è molto carina questa torta è molto morbida è una torta che si scioglie in bocca provate questa ricetta se vi è piaciuto il mio video mettete il like commentate e condividete questa ricetta con i vostri amici e familiari invece iscrivetevi anche al mio canale per non perdere le prossime video ricette grazie per aver guardato questo video alla prossima